Con le mareggiate di quest'inverno è rimasto danneggiato tutto il litorale, con tutte le spiagge rose, qualcuna più e qualcuna meno, ovunque, e le dighe invase dai detriti. Fino a ieri non c'era però stata segnalata la diga alla foce dell'Adige, al lato nord del fiume. Questa non ha subito un'invasione dei detriti, rimossi poi probabilmente dai concessionari della spiaggia vicina, ma hanno subito un vero e proprio danno strutturale. Molti sono i massi che si sono spostati a causa della violenza delle onde, finendo sopra il camminamento, ma di fatto assottigliando con la loro assenza il volume di massi a protezione del manufatto. Dobbiamo ricordare che i ripascimenti, le dighe e tutte le protezioni che vengono applicate nei litorali servono sia a un fattore turistico, ma principalmente servono per tutelare il territorio. Per questo motivo, spiagge e dighe non vanno sistemate solo in concomitanza della bella stagione turistica per permettere agli ospiti di fare una passeggiata in luoghi ameni, ma vanno ripristinate appena possibile per evitare che una successiva mareggiata vada a danneggiare ciò che era stato risparmiato. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta? Indiga a Sottomarina ti aspetta?